ciao sono il dottor max della farmamax che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo in questa nuova serie di video dedicata agli alimenti veterinari ti leggerò i foglietti illustrativi degli alimenti veterinari più utilizzati prima di iniziare ti ricordo di iscriverti al canale mettere un mi piace ai video che ti interessano e commentare con le tue esperienze personali in base ai farmaci integratori alimentari parafarmaci farmaci veterinari alimenti veterinari o principi attivi da te assunti in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute grazie ai suggerimenti condivisi in questo video esaminiamo l'alimento veterinario nefrorenale airless 3b farma srl concessionario 3b farma srl confezioni nefrorenale airless flacon e airless da 50 g formulazione malto estratto da orzo proteine animali idrolizzate origine avicola destrosio sale di potassio dell'acido citrico citrato di potassio 4 per cento prodotti ottenuti dalla trattatura di proteine trasformazione di erbe l'espedezza l'espedezza capitata mix parti aeree e polvere 4 per cento chitosano 0,75 per cento inulina la cicoria prodotti ottenuti dalla trasformazione di erbe betulla betola pubescence foglie polvere olie grassi vegetali olio di semi di lino cloruro di sodio maltodestrina punto additivi organolettici prodotti naturali botanicamente definiti ginepro uniperus comuni selle tintura 7500 mg barra chilogrammi olivo o lea europa ea l estratto 100 mg barra chilogrammi additivi tecnologici 1 c 322 lecitine e 460 cellulosa microcristallina e 202 potassio assorbato e 551 bisilice colloidale e 330 acido citrico e 415 gomma xan time indicazioni nefro renal marchio registrato è un mangime complementare per cani e gatti in pasta ad elevata appetibilità appositamente formulato con citrato di potassio e l'espedezza capitata per favorire la normale funzione delle alte vie urinarie posologia peso dell'animale cane fino a 10 kg 1 erogazione 10 20 kg 2 erogazioni 20 30 kg 3 erogazioni oltre 30 kg 4 erogazioni peso dell'animale gatto fino ai 4 kg 1 erogazioni al giorno somministrare il prodotto miscelato nel cibo gradito o direttamente in bocca all'animale periodo di impiego raccomandato fino a due mesi completare la razione giornaliera con l'alimento abituale si raccomanda una razione giornaliera equilibrata lasciare sempre acqua fresca a disposizione si raccomanda di chiedere il parere di un veterinario prima dell'uso fonte codifa l'informatore farmaceutico per avere accesso alla versione più aggiornata si consiglia l'accesso al sito web della codifa l'informatore farmaceutico grazie per avermi seguito fino a qui spero che la farmamax ti sia stata utile iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video buon proseguimento ci vediamo al prossimo alimento veterinario esaminato